Ciao ragazzi Bentornati su Big Toy Story Channel Oggi faremo l'unboxing di... Ah, che succede? Uh, quante cose oggi! Leggilo tu, un nuovo amico Oggi faremo l'unboxing di... Cardbox E... Allora, Cartrope è prodotto da Cicalalom Cameraman, apri prima le bustine dei Pokémon Ok, apriamole Allora, queste buste potete trovarle in elicola a pezzo di 5€ Ho trovato una carta online In... 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 Fer... Fer... Feratorn Feraton Feraton Lo scambio di... Lo scambio di... Lo scambio di Pokéball Martello di... Pente La carta energia Acqua 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 In più una... Morpoc V Morpeco Sì Abbiamo trovato la carta scintilla e ruota elettrica Alle mosse scintilla e ruota elettrica E in più... Abbiamo trovato pure Sinslinde Uno slinde No, ho detto Sinslinde Pede Sinslipede Sinslipede Rosel... 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 Rosalia Golden E... Globopus Ah, questa carta Questa è una full art di carta a punteggio 170 E' una carta molto rara questa E' una carta molto rara questa Vediamo cos'altro abbiamo trovato in questa busta Ti aiuto io La carta online Per riscattare la bustina online Per riscattare la bustina online Una carta ammo normale O non tirare su col matone Poi abbiamo trovato Seeking In più... Limone Limone Linone Linone Di Galar Di Galar E in più... Limone Poi abbiamo trovato... La carta nell'energia d'acciaio Abbiamo trovato uno... Poi abbiamo Snorlax La chiappa Pokémon Soblu Sobbol Sobbol Ma falle vedere bene Falle vedere così Ecco qua Sobbol E' carino E' carino Sobbol Mincino Con la Pokémon alla destra Punita Con... Sembra che stia galoppando Credo Saladit Oladin No Saladit Ho detto Baltoi Vediamo l'ultima busta Allora abbiamo trovato una carta online GOSPLY GOSPLY GOSPLYER SILICOBRA SILICOBRA WAMPER Grappi Grappi KUNFANGMENT Un altro KUNFANGMENT SILICOBRA 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 Pozione La pozione HIT MUNCION HIT MUNCION Occhio Buio 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 La carta energia buio E per ultimo abbiamo DOLTER 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 E adesso Tocca Al pezzoporte Ooooo Che bello C'è un TORON SPAWN Allora abbiamo trovato Debil Abbiamo trovato Debil Della 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 squadra Dark S Shadow Dark Dark Shadow Ooooo E' successo Dopo l'impatto avviene la trasformazione Abbiamo bisogno di un kart testa Ok aprilo Ok aprilo Nooo Non è possibile Abbiamo tro... Che abbiamo trovato? Abbiamo trovato TOR di TUNDER TUN TUNDER Si trasforma Bisogna... Abbiamo solo le gambe Ci mancano le... Le teste Vedi sono due gambe Che peccato Abbiamo trovato due autobot Voglio vedere se nella... Nella prossima uscita Troveremo le altre parti del corpo Trovermo Trovermo Stiamo arrivando Peccato ragazzi Abbiamo trovato solo due gambe TOR E DEVIL Bene ragazzi Spero che questo... Questi Delle carte di pokemon Spada e Scudo Vi siano piaciute E non dimenticate di Iscrivervi al canale Cliccando sulla campanellina arrivederci al prossimo video ciao